Monto io il latte quando non ho il cappuccinatore Si monta la favola raga Il mini peamer praticamente A te uso questo qua senza lattosio, oggi mille Che si monta la favola Buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog Mamma mia che emozione Allora, fette biscottate con la cioccolata Questa bella tovaglietta Merry Christmas Il mio cappuccino, guardate che schiuma Adesso mangio e poi sono da voi, a dopo Care con i miei prodotti Carlita Beauty ovviamente Andate per l'idea, cioè l'ho finita ma la devo riprendere Gocce di luce, gli splendi Tra l'altro tutti i miei prodotti Carlita Beauty sono scontati sul sito Quindi approfittate E poi ci sono altri prodotti Carlita Shop che anche amo Questo detergente vaniglie e mandola Questa crema viso Quest'altra crema con tornocchi Con le scaglie di oro Adoro Quest'altro tonico contro le macchie Vabbè lo sapete uso solo i miei prodotti E tra l'altro abbiamo anche la promo di dicembre Quindi correte su Carlita Shop Tutto questo guardate quale dov'è Anche i vostri cagnolini ci dormono sotto le coperte Guarda Cioè io ho paura a volte che si soffochi Pupi Un salutino Pupi Sei felice? Pupi a mamma Eccola qua Guardate quanto è bella Sta sempre con me E dove va? E dove va? E dove va? E dove va? E sei piccolina Beh, buonanotte Vlogmas Oggi è una bellissima giornata di sole Infatti ce l'ho tutto in faccia Ho cercato di mettermi in una posizione migliore Ma non trovo una posizione migliore Comunque E inizio Perché Allora Un'unghia spezzata Ok Forse dovrei mantenere la fotocamera Con l'altra mano Ma non ci riesco Qua sono tutte bellissime Qua ce n'è una spezzata Con cui posso prendere le creme Per spalmarmene Quindi adoro Vabbè Comunque Se mi poggio qua Aspettate Tipo se poggio così Comunque Allora La mia missione di oggi Sarà comprare I I regalini Per il regalo dell'avvento di Daniel Perché in effetti Ho fatto poi stasera Quando lui tornerà Perché questo è un vlog Un po' cosa mangio Un po' vlog Un po' tutto E Quando lui tornerà da scuola Vi farò vedere La sua reazione Perché ogni giorno Abbiamo un pacchettino Vi farò vedere questo Calendario dell'avvento Bellissimo E apriremo il pacchettino E mi mancano 12 regalini Fino ad ora Me la sono cavata Perché metà Calendario dell'avvento L'ho riempito Me ne mancano 12 Vorrei comprare Tutti i 12 oggi I regalini Comunque oggi È veramente Una giornata di sole Bellissima Io da meteoropatica Non so mai Ammette Ok Ok Non è covid Giuro Comunque Sono molto Di buon umore Anche se questo è un periodo Un po' Molto molto delicato Per me Infatti Sono anche due giorni Che non posso Su IG E Mi avete Scritto Delle cose bellissime Tanti messaggi Che ancora Non ho Non ho letto Perché veramente Mi avete scritto In tantissimi Ok sto vedendo Se ci sta E Ho deciso di fare Questi vlog Come sfogo personale Un po' Perché Comunque mi fanno bene Un po' Perché Cerco di non pensare Ai miei problemi Comunque più in là Nel vlog Vi parlerò Un po' Nel dettaglio Dei miei problemi Comunque da marzo Più o meno Che io non sto bene E Comunque Mi devo distrarre E questo è un motivo Per me Per distrarmi Spero di non ricevere I soliti messaggi Brutti nei commenti Sappiate che state parlando Con una persona Veramente Psicologicamente Stabile In questo momento Che sto veramente Veramente male Quindi abbiate Un po' Di delicatezza Un po' Non so Un po' Di Di Bontà Comunque Andiamo Tutto addobbato Le mie decorazioni preferite Le vetrine Sono Yamamai Vediamo cosa ha messo Che bello E anche Ted Zenis Vediamo Adoro Adoro le decorazioni Di Ted Zenis Io raga Guardate che bei pigiami Guardate che bei completini Vabbè c'è anche Alcott Un po' Di persone In questo vlog Che mi hanno dato il permesso Di comparire Il primo l'ho trovato Scusate c'è una vaiassa qua Che grida Vaiassaggine Però l'ho trovato Il primo Costa anche poco Oh mio dio Che sta succedendo Mamma mia Comunque E devo trovare Due cose così Economiche Insomma Perché Sono 24 pacchettini E Questa è bellina Pure una di queste macchine Mi piace Adoro Oh questa somiglia alla mia Lui dice La macchina di mamma Mi arrottino Stamattine Allora le calze servivano a me Allora Adesso mi sento un sacco più felice Devo dire che stamattina Cioè ieri Quando ero proprio nel pieno Nella mia depressione Ho visto un video Sai quei video motivazionali Scusate Mi sono messi agli occhiali Perché io non cedo Sono ciecata Oltretutto La mia collettina di Prada Adoro Comunque E Praticamente Diceva Domani Svegliati E fai Quello che ti piace fare Io ho detto A me cosa piace fare A me piace fare YouTube Perché è quello Che io ho sempre fatto Quindi poi Per impegni vari L'ho abbandonato Ma io ho fatto video Su YouTube Cioè Senza fregarmi Di quanto guadagnavo Di nulla Perché per me Era una passione Quindi ho detto Non basta Ma domani faccio un vlog Quindi vi ho spiegato Anche il perché E poi un motivo Per spiegarmi a voi Stare un po' con voi Poi Trasmetterci A vicenda Un po' di vibes Natalizia Infatti anche voi Mi dovete scrivere Nei commenti Se avete fatto i regali Di Natale Eccetera Vabbè Stanno guardando tutti Ma chi se ne frega Fossero questi I problemi nella vita Adesso andiamo ai magazzini Carita Shop In azienda Yeah Casa nuova Anche c'è un sacco Di cose carine Per la casa Bellino Un bel Caffettino Schiumato Guardate che bella Schiuma Fanno qua a Napoli Questo l'hai fatto mettere tu E' bello Questo è il copretto di Natale Eh Pure con la Larus Vedi Tutto con la Larus Bello Vabbè Capito Ma se mangiamo a casa Ma domani mattino Lo metti Spoccato Spoccato Poco Guardate qua Quanti pacchi Stiamo facendo un sacco di pacchi Perché Abbiamo la promo Di dicembre Venite a vedere Praticamente stiamo facendo Lo sconto E anche il regalo Mui faccio vedere Alcuni omaggi Che stiamo dando Sono bellissimi Proprio natalizi E poi ci sono Tante idee regalo Che muovi faccio vedere Sono tutte scontate Al 25% Quindi approfittate Tante box natalizie Che costano pochissime Dello costo Per i regali di Natale E poi ci sono Tutti i miei prodotti Eccoli qua Carlita Beauty Tutti i cofanetti Questo C'è il cofanetto Carlita Beauty Tutti è l'idea più bella Per i regali di Natale Eccolo qua Secondo me è bellissimo Fate felice Veramente qualcuno Poi ci sono le tazze Tutti i prodotti singoli Guardate qua Quanti ne abbiamo fatto scorte Perché ce l'avevate terminate Con il Black Friday Questi sono tutti i pacchi Che stiamo preparando Per voi Guardate che belle Queste Di per Natale Cioè dentro ci sono Praticamente sono Delle box Fatte con le bustine Quindi le potete mettere Sotto l'albero Con i cuoricini Sono bellissime E ci sono varie Varie cose Corpo Viso Venite a vedere Anche queste qua Con quest'altra busta Guardate quanto è bella La busta così Con il cofanetto dentro Ma ve le faccio vedere meglio Abbiamo un sacco Un sacco di idee regalo Poi ci sono queste qua Bellissime Guardate queste che carine Cioè sono bellissime E approfittate Che sono scontate Al 25% Queste con i prodotti Makeup Sono troppo troppo carine Guardate qua Che belle confezioni Abbiamo Per i vostri regali Di Natale Allora Tutte queste box Buste Contengono diversi prodotti Che adesso vi faccio vedere Sono tutti Tutti scontate Al 25% In promo Su Caritas Shop Sono queste di Alchemilla Sono bellissime C'è vabbè Il cofanetto Di Carlita Beauty Carlita Beauty Ci sono questi qua Che dopo si conservano Anche i contenitori Bellissimi Questo carinissimo Queste qua Che ci sono Sia in versione grande Che in versione piccolina Queste Sono di puro bio Queste della saponaria Adesso vi faccio vedere Un po' Cosa contengono La prima che voglio farvi E dire è questa qua Perché è troppo troppo Bella raga Guardate quanto è bella C'è Proprio una Borsettina E dentro c'è La crema Contorno occhi E l'acido Ialuronico Concentrato Per il viso Sono bellissime Queste qua E' un kit Che anche I prodotti Sono i massi Assoluti Di questo brand Su Caritashop Ne vendiamo tantissimi Quindi un'ottima idea Regalo Queste Dovete fare in fretta Perché voi Stanno andando Velocemente A ruba Poi ci sono Queste qua Che contengono Prodotti viso Prodotti Uomo Questo qua Prodotti doccia E prodotti Mani Poi su Caritashop Trovate tutti I vari prodotti Questo è qua Invece bagno doccia E crema corpo In diverse profumazioni In versione sia grande Che piccola Qua ci sono Matite Mascara Struccante Prodotti trucco E poi qua Praticamente Muove le apre Vi faccio vedere Voi mettete Queste bustine Sotto l'albero O appure anche Quando le regalate Non dovete neanche Preoccupare Di incartarvi Sono troppo carine Ma questa contiene Le saponette Profumate Naturali E il burro cacao Per le labbra Poi questa qua Guardate quanto è bella Con tutti i cuoricini Contiene Bagno doccia Il latte corpo Limite deliscio Namur E la crema mani Poi ci sono Tutte le varie fragranze Questa qua E la fragranza Ambra Jasmine Violetta E rosa Che trovate Il bagno doccia Il latte corpo E la crema mani Di ognuna Sono bellissime Queste qua Da regalare Cioè ci fate Una bellissima figura E anche da tenere Sotto l'albero Sono veramente Bellissime Quindi vi aspetto Su Carlita Shop Se quando acquistate Le buste Voglio dire questa cosa Invece dello scotch Noi vi metteremo Nel pacco Un adesivo Questo qua Carlita Shop Così per chiudi Busta Lo potete utilizzare Invece dello scotch Vedete perché abbiamo Tutti questi adesivi E quindi fate Lo usate Per chiudere La confezione Pensiamo proprio A tutto Sì sto facendo Umano Sto facendo Una diretta Nei magazzini Carlita Shop Mentre mi bevo La tisanina Nella tazza Carlita Beauty Con tutte le confezioni Regalo qua E sto facendo Questa diretta Su IG Salutatevi Adesso è arrivato Il momento Per me di mangiare Mangio qua Sul tavolino Carlita Shop Guardate come solo Disperata Con la mia schiscetta Guardate quanto è bella Insalata Col tonno Limone E pane Integrale Buon appetito Vabbè Diciamo Era un po' esagerato Come se stessi mangiando Una pizza Sassiccio e fialielli Però Un po' esagerato Anche lui E saluta prima Dici ciao Dici ciao Guardate quanto sono belli I vostri regali Per Natale Bagno doccia Natalizi Vedi anche da No come no Sono bellissimi ragazzi Sono dei bagno doccia Natalizi Che abbiamo fatto fare Per mettere per mettere il regalo Per metterveli in regalo Nei vostri pacchi Per tutto il mese di dicembre Scrivendo Omaggio dicembre Avrete ovviamente Fino a esaurimento scorto Quindi fate in fretta Ora che c'è la promo di dicembre Avete anche lo sconto E con il codice dicembre 15 E scrivendo nelle note Omaggio dicembre Avete uno di questi bagno doccia Sono bellissimi Tutti Natalizi Vado come sono belli C'è anche Babbo Natale sopra Guardate Buon Natale Sono troppo carini È vero mamma Natale Natale E dici ciao Ciao E fai prima la cioccolata Com'è buona E buona E dove stai tu Ne magazzini Carlita Shop Dici Carlita Shop E dici Carlita Shop Dici ti do una bella cosa Carlita Shop Prendi solo la cioccolata Carlita Shop Sì qua Ne magazzini Carlita Shop Guardate quanto sono belli Miei dottori Tutti a fare i pacchi Con le belle confezioni natalizie Qua abbiamo tutte le caramelline Stanno impacchettando Guardate che bello Qua abbiamo tutti i campioncini Cofanetto Carlita Beauty Io metto tutti gli omaggi L'omaggino Omaggio 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 Ecco qua I vostri omaggi nei pacchi Guardate quanto sono belli Tutti con i camici Tutti con i camici Carlita Shop E tutti i vostri pacchi Sono pronti per partire Queste confezioni sono bellissime Troppo troppo belle Stiamo facendo un sacco di pacchi Con idee regalo Il profumino Le caramelline abbiamo messe La cartolina Benissimo Sta Daniel Sulle montagne russe Guardate qua Su tutti i pacchi Gli scatoli Gli scatoli Gli scatoli Gli scatoli Ciao Dici saluta Ciao Prenda in macchina Il suono di Mariah Carey Con questo yogurt E metto stiamo andando A un parco giochi Pavesini Ma l'amore C'è il cappellino Vai c'è il cappellino di Natale La casa Buon appetito Buon appetito Siamo arrivati In questo grande marco giochi Bellissimo Daniel Mosè svegliato Stava dormendo nella macchina Mamma mia Bello Guardate quanto è bello C'è bellissimo Ci sono tutte le giostre Tantissime tantissime giostre Anche il bambone Daniel 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 Ciao Ciao Daniel E la zucca Guardate che bello Le renne di Babbo Natale Togliomini Adoro E poi là Ci sono i Babbo Natale A me è bellissimo Eccoli qua Questo è bello Ragazzi guardate Dario Come sta in forma Mi si è dimagrito Ho fatto la dieta Ho visto come sta bene Perché da dietro guardate Guardate dove sono andati Quei due Sulla navicella Ciao 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 Vieni i bambini Guardate come è bravo il mio bambini Questa l'acqua Questa l'acqua C'è il fuoco Bravo amore Ma quando è bello Ma quando è bello Adesso sono tornata a casa Mi metto questo bel pigiamino di Natale Con anche le pantofoline Guardate che bello Adoro con tutti gli orsi Facendo i pacchettini Delle cosine che ho comprato Del calendario dell'avvento Così nel frattempo Magari parlo un po' con voi E ovviamente le persone che mi seguono Da più tempo Sanno Più o meno Possono immaginare Quali sono comunque Le cose che Attualmente mi fanno stare male Quali sono le cose che io Comunque Nella mia vita Mi hanno fatto soffrire Cioè i pacchetti li faccio un po' così Perché tanto insomma Questo scotch di tiger Non è buono proprio Sono andata dai tiger La carta sì Ma lo scotch non è buono proprio Vabbè Comunque E poi oltre a questo Io ho proprio Ho avuto proprio problemi di salute E più o meno è da marzo Che non sto bene E quindi Comunque mi sto Mi sto curando Ho preso anche questi qua Che sono Dei Adesivi Bellini E questi qua Sono altri adesivi Super super carini Tutti natalizi Guardate che belli Presi sempre da tiger E questi qua Sono dei bigliettini A cuoricini Carinissimi Io metto uno qua Che vuole bene il mio amore E quindi niente Questa è la La situazione Che veramente Non è delle migliori Assolutamente Però insomma Io cerco di Tenermi impegnata Con il lavoro Adesso con questi vlog Non pensate Non immaginate Comunque quanto mi ha fatto stare bene Stare qua comunque a vloggare Ho preso questo Leoni Per leoni E vere leonisse Lion Ho detto con sorpresa Comunque Anche voi Quando mi scrivete Nei commenti Mi aiutate tanto A volte anche Solo un messaggio Mi aiuta tanto Quindi Grazie a chi Comunque Magari nei commenti Mi scriverà Una buona parola Mi scriverà Qualcosa di dolce Di carino Perché è proprio Insomma Quello di cui ho bisogno Perché comunque Vi ripeto Comunque sto attraversando Questo periodo Che veramente Non auguro Neanche il mio peggior nemico Ormai è da marzo Che sto Comunque così E nulla Speriamo di Stare presto bene E E niente Voi invece Come state? Voi Come 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 è questa situazione Del Natale? Come la state vivendo? Insomma Avete Avete fatto l'albero? Come state? Come vi Cosa Che vibes Vi dà il Natale Positive o negative? Fatemi sapere A me un po' A volte anche negative Vi dico la verità Però Comunque il mio dottore Mi ha detto Che non è nulla di strano Quindi Non Non mi devo preoccupare Ho scritto Ti amo E nulla Adesso finisco Di fare questi pacchettini E poi gli facciamo Aprire il calendario Di oggi Lì qua I pacchettini Andavano a mettere Il calendario Dell'avvento Apri il pacchettino Non le togliere A mamma Sono belle Dai Prendi il pacchettino Quale devi prendere? Questo grande Guardate quanto è bello Questo calendario Dell'avvento È bellissimo Me l'hanno fatto i miei genitori No amore Devi aprire la casella Numero 6 Anche dietro È tutto fatto Di Natale Questa mamma No Guarda come è bello E guarda dietro Cosa c'è Bellissimo Apriamo Apriamo il pacchettino No Anche Pupi Vai apri Cosa ci sarà Guarda che è uscito Un trattore A mamma Ti piace? Tanti Tanti Ma ti piace questo? Sì Sì Tanti No basta Uno al giorno A mamma Lui vorrebbe aprire Sempre tutti Dai Adesso apriamo questo E ci giochiamo un po' Sì Girati Come sei bello Tutto di Natale Tiki 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 Ah 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 E papà? E pa... Nella stanza Nella stanza E valla a chiamare Vai Tutti di Natale Vai Vieni Cinco bel Cinco bel Cinco bel 電 La 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 Vieni E fa un po' Ditario Adoro Cinco bel rub Cinco bel Cinco bel Cinco bel Ciao! Buon Natale! Lenticchie con sottiletta, ragazzi è buonissimo! Che mangia la sua papina da solo?